Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la review di Rampage, sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, anche oggi sono qua per parlarvi di All Elite Wrestling, per fare quella che potrebbe essere una delle ultime review di questo programma. Si parla, c'è un rumor abbastanza importante che riguarda un nuovo show televisivo che si dovrebbe chiamare Shockwave e che dovrebbe prendere il posto di Rampage magari in un altro canale. Non so se sia vero, mi interessa relativamente, quello che so è che per adesso si va avanti con Rampage. Vi voglio però dire, perché sono abbastanza... vedo che a un momento in cui ci sono molti rumor intorno al mondo del wrestling da una parte o dall'altra, insomma in realtà da tutte le parti, state tranquilli con i rumor, nel senso che è vero che molte volte poi un rumor diventa notizia, però finché non è notizia, non basateci troppo il vostro tempo, la vostra attenzione, perché in realtà molti, ma tantissimi rumor che sembravano anche molto importanti si sono poi rivelati di nulla di fatto. Quindi il mio consiglio spassionato è quello di dire, ok, leggo questa cosa, non gli do peso finché non c'è un annuncio ufficiale. L'annuncio ufficiale poi rende la cosa effettivamente una notizia e badate bene, un rumor che a un certo punto diventa effettivamente notizia, resta un rumor, è la notizia che è la notizia, ok? Le anticipazioni, i rumor lasciano sempre il tempo che trovano. Qua però c'è stato un'ora di show, ci sono stati diversi match, qualche cosa di piuttosto interessante che voglio raccontarvi, quindi eccoci qua pronti a partire. Iniziamo subito con Mark Briscoe. Mark Briscoe che batte un Brian Keith secondo me in ottima forma, stanno facendo molto bene il lavoro con Brian Keith perché quando deve fare la parte di intrattenimento è praticamente l'ombra di Jericho, ma quando è sul ring è il lottatore che abbiamo iniziato ad apprezzare quando è arrivato, insomma, in All Elite, quando era lontano ancora dal Learning Tree, insomma, stiamo vedendo comunque un buon adattamento da parte di Brian Keith all'interno delle dinamiche che correttamente lui deve andare a lavorare. Quando deve fare la parte extra ring la fa in un modo, quando deve andare in ring, vabbè, lo fa con il suo solito modo, che secondo me è molto molto interessante, tanto che era uno dei lottatori indipendenti su cui puntare maggiormente l'attenzione, ecco, diciamo così. C'è ovviamente la vittoria di Mark Briscoe, c'è un attacco ancora ai danni della Conglomeration, tra l'altro da parte di Chris Jericho e di Big Bill, e si va proprio a pestare ancora sia Orange Cassidy che Kyle O'Reilly, insomma, si va avanti. Io credo che Chris Jericho abbia un po' il problema di togliersi dalle faide, cioè per entrarci ci entra, per uscirne, mamma mia, che fatica, e quindi, boh, speriamo bene. Un altro match di Wheeler-Yuta, questa volta contro Butcher, e il match è buono, interessante, non deve essere una cosa allucinante, ma deve mostrarci un Utah in progressione rispetto a quello che sta succedendo, e lo è. Questa volta non è distratto come nel match della volta scorsa, della settimana scorsa, con Anthony Henry, e riesce a lottare meglio, chiude con questa sottomissione che non molla alla fine, in modo molto aggressivo, c'è molta aggressione da parte di Wheeler-Yuta, ed è buono perché l'aggressione non è sbagliata neanche per Brian Danielson, quindi non ci stanno ancora dicendo da che parte andrà Wheeler-Yuta, è che io vado a immaginare, vado a pensare che o lo vogliono togliere completamente da quel giro del Blackpool, oppure alla fine rimarrà fedele ai suoi compagni, ma lo capiremo ovviamente anche con le prossime puntate, perché cominciano ad essere decisamente cruciali. Promo degli MXM, invece, con una giacca di Max Caster, lo prendono in giro per la stessa cosa per cui lo prenderei in giro io, cioè lui va dicendo di essere il miglior lottatore di quelli in attività in questo momento, cosa che non è vera. I due promettono ovviamente un extreme makeover della giacca, e chiaramente va avanti la loro faida con gli Acclaimed. Iker Ushida invece torna sul ring, lo fa con Arley Cameron, un Arley Cameron che va quasi a vincere, viene spiegata la situazione di Iker Ushida che non ha più fiducia nella sua finisher, tanto che tergiversa nella parte finale, e questo le costa quasi il match, anche perché Saraya era lì molto attiva a cercare di dare fastidio, Saraya che ovviamente poi è stata affermata in queste sue azioni dall'arrivo di Jimmy Hater. Iker Ushida chiude con la Falcon Arrow, Iker Ushida tra l'altro sui social dice se ho qualche problema con la mia finisher dovrei forza cambiarla, e sarebbe una grande cosa perché è una finisher veramente di merda la katana, non viene mai bene, ma sempre fatto cagare, quindi se la toglie, guarda, sono stracontento. Di fatto, quindi, un Iker Ushida che deve un attimino ricostruirsi, che però sembra molto presente in questo periodo, per cui ce la teniamo lì, se dovesse anche migliorare un pochino questo match, mi è piaciuto in realtà, però sapete che io sono un po' un fan di Arley Cameron, perché di base sembra sempre una persona un po' sotto, un po' indietro, non capace, perché ha questo tipo di personaggio, ma funziona, e sul ring funziona, tanto. Quindi, ora che la vediamo lottare, credo che, se poniamo la giusta attenzione, vediamo non un fenomeno, ma una lottatrice che può stare tranquillamente all'interno di un roster qualsiasi americano, senza disdegnare posti. Anzi, può andarsi a prendere anche dei posti in card, che vanno benissimo. Di buono c'è che, dato che Jamie Hayter è venuta a rompere le scatole a Sarai, e a Sarai, la sfida in un Sarai rules match, che non sappiamo cosa significhi, però lo capiremo probabilmente andando incontro a questo match, per Grand Slam. Credo che sarà a Grand Slam Rampage. Dovesse essere da qualche altra parte, un'altra cosa riguardante Grand Slam, lo capiremo. Però, va bene comunque. Ce lo vediamo, ci togliamo, verosimilmente, questa situazione dai piedi, e poi capiamo come sarà il prossimo futuro, per entrambe. Anche perché Sarai è in scadenza, e quindi non sappiamo bene come sarà il suo futuro, se sarà ancora lì, se sarà ancora nel mondo del wrestling. Lo capiamo, ovviamente, man mano che andiamo avanti. C'è stato anche un match con Beast Mortals e Roderick Strong, che hanno fatto coppia battendo due Jobber. In realtà hanno fatto coppia perché poi dovranno fare coppia anche a Collision, in un match 5 contro 5. C'è e non c'è intesa, però alla fine la vittoria arriva, anzi. Vediamo. Vediamo Collision, ne parliamo ovviamente domani, di Collision domani sera. E poi capiamo come funziona il resto. Vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono i nostri contenuti, potrebbe essere cosa giusta e buona. Ci sono delle persone che dicono, sì sì, io guardo, poi mi dimentico di mettere il like, allora ve lo ricordo io. Perché comunque fa piacere vedere che il lavoro che facciamo è apprezzato. E per questo voglio anche ringraziare i nostri abbonati che ci aiutano costantemente, ci danno la possibilità di essere qui e parlarvi di Ore Elite con tranquillità e serenità, utilizzando del tempo che dovremmo dedicare ad altro. Invece gli abbonati ci danno questa grande opzione e soprattutto è bello vedere che chi si abbona resta. Vuol dire che i contenuti poi che portiamo per i soli abbonati interessano, piacciono ed è bellissimo perché ci dà veramente la misura, il termometro, come mi piace dire, di come sta questa community. E sta bene, grazie. Deonna, Deonna Purrazzo dice, sono arrivata qua da sola ma in realtà io nel tempo ho avuto tante amicizie, ho una rete di contatti, tante persone che si sono trovate bene, mi devono anche qualcosa e a partire da questa riempie una spalla, ne ha due di spalle, no? Ne riempie una con l'arrivo di Taya Valkyrie che ovviamente si metterà accanto a Deonna e Deonna ha citato anche sui social questo thing of ours, un po' una sorta di cosa nostra. Ehm... no vabbè, non è quello. Però mi piace, mi interessa e voglio vedere se effettivamente ci sarà una fazione come è stato un po' citato sui social in questi giorni. Sarebbe interessante, mi piacerebbe vedere qualcosa di più. Lei sta facendo una run in realtà molto bella, magari un giorno la andiamo ad analizzare con un video dedicato perché sta facendo sempre molto bene. è stata sempre inserita in faide, quasi mai ha fatto dei match fini a se stessa e sta lavorando bene nei promo, nelle situazioni, molto credibile, bene, molto bene. E forse abbiamo trovato anche nuovamente uno spazio per Taya. Non vedo l'ora, non vedo l'ora veramente. Sono molto curioso. È un momento in cui il resta infemminile della All Elite è davvero tanto, tanto, tanto interessante. È da un po' che è rilevante, ma così interessante è veramente un bel lavoro. Ci ha voluto del tempo, ma stiamo veramente vedendo cose molto molto belle. Nel main event, invece, Nick Wayne ruba a Kip Sabian la vittoria. Gli la ruba perché Kip Sabian in realtà arriva a trovare il modo di chiudere su Rocky Romero. Allora Rocky Romero, che è a terra, sta per essere schienato, ma arriva Nick Wayne, toglie Kip Sabian, va lui su Rocky Romero e connette il pin. Il match era un po' incentrato sulla loro rivalità, in qualche modo, sul fatto che Christian, che comunque stava guardando insieme a mamma Wayne e a zio Kill Switch, le gesta di Nick Wayne. All'interno del match c'è anche Leo Rush, che ha fatto benissimo. Il match è molto scorrevole e molto bello, nonostante il picture in picture, che poteva abbassare un pochino il ritmo, invece è andata bene. Un four-way che ha dato quello che doveva dare. Kip Sabian, alla fine, è molto frustrato da questa sconfitta. E sono curioso di vedere dove andrà. Perché è una storia che pian piano si sta raccontando, pian piano stiamo vedendo, e che ci sta apprendo a delle possibilità. E capiremo fin dove possiamo arrivare, anche grazie all'andare avanti, all'incedere della storia. Io credo di aver finito, vi ho raccontato tutto quello che è stato Rampage dal mio punto di vista, quello che ho dimenticato, quello che ho evidentemente mollato da qualche parte. Tra l'altro, stamattina, mentre lo guardavo, anche da curare un po' la gatta piccola, che non stava benissimo, quindi vabbè, adesso sta meglio, quindi sono più tranquillo. Però stamattina, insomma, l'ho guardato meglio possibile, però, insomma, se mi sono perso qualcosa, voi segnalate. Grazie di cuore a tutti per aver seguito. Io sono Stefano, da voce di AW Italian Podcast. Noi ci rivediamo, alla prossima.